il leader del movimento 5 stelle l'intervento sulle accise è molto modesto bisogna condividere un energy recovery found o non ne usciremo più conte buona alla rateizzazione buona alla cassa integrazione buono il credito d'imposta cedibile sul 30 per cento ma l'italia deve farsi sentire in europa il caro energia e bollette è così significativo che non sarà sufficiente una singola azione pur non trascurabile come quella che è stata adottata il provvedimento sulle accise è molto modesto ecco perché dico che è solo un primo intervento a dirlo ai leader del movimento 5 stelle giuseppe conte che ospite a sky tg 24 fa il punto sul decreto taglia prezzi varato in consiglio dei ministri venerdì 18 marzo e la conseguente evoluzione della guerra in ucraina tra le misure messe in campo dal governo draghi buona la decisione sulla rateizzazione la cassa integrazione il buono il credito d'imposta cedibile sul 30 per cento ma l'italia deve farsi sentire in europa bisogna condividere un meccanismo solidaristico generalizzato un energy recovery found o non ne usciremo ha sottolineato l'ex premier il conflitto in corso in ucraina potrebbe rallentare il nostro percorso virtuoso di transizione energetica ecologica e digitale nella misura in cui dovesse prevalere folle idea di rivedere gli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza pnrr destinati a questi obiettivi e reindirizzarli alla difesa sarebbe una follia ha dichiarato il leader del movimento 5 stelle bisogna assolutamente ribaltare il discorso e accelerare quello che l'emergenza energetica ci sta imponendo e di accelerare sugli investimenti massicci nelle risorse rinnovabili dobbiamo anticipare i tempi e puntare su misure che ci portino a un'energia pulita ha aggiunto conte